Un weekend magico per lo sport cremonese, un fine settimana che ha regalato ben due ori irridati. Uno nel canottaggio Under-23 con Valentina Rodini in Bulgaria sul 4 di coppia pesi leggeri, l'altro nella canoa junior con il successo di Riccardo Spotti in Portogallo nel K2-200. Rientrati a Cremona, i due atleti sono stati festeggiati dalle rispettive canottieri. La Bissolati ha abbracciato la Rodini. In Baldesio festa grande per Spotti. È stata anche l'occasione per rivivere le emozioni dei rispettivi trionfi. La tensione era mille fino alla fine e non lo so, io credo alla fine di aver chiuso gli occhi e di aver solo tirato perché è stato proprio così. Siamo arrivate che non ci credevamo perché era quello che avevamo sperato da sempre, però era quasi impensabile. Sicuramente una forte emozione e anche un senso di incredulità perché comunque sono cose che non capitano tutti i giorni e non si pensa di poterle realizzare. Si vedono sempre da un punto di vista esterno e non si pensa mai di poter arrivare a certi livelli. Nel momento in cui poi vi sono emozioni grandissime. Medaglia d'oro al collo, Valentina e Riccardo hanno una dedica speciale da fare. L'ho dedicata a mio fratello perché già due anni fa quando ho vinto il mio primo titolo mondiale gliel'avevo dedicata perché siamo molto legati e anche se lui non è quello che mi parla, che mi dice fai così, fai colà, ma nel suo silenzio sembra che mi dica tu sei quello che devi fare, quindi taci e fallo. Sicuramente il mio allenatore che è accaduto in me, mi ha seguito, mi ha aiutato anche nei momenti più difficili e mi ha portato fino a questo livello. E come tutti i grandi campioni, dopo aver raggiunto un grande traguardo, è già tempo di porsi nuovi ambiziosi obiettivi. Parto domani per andare a provare a fare le selezioni per entrare su una barca assoluta. Quest'anno gli assoluti servono come selezione per le Olimpiadi, se si va sul doppio. Noi il doppio olimpico ce l'abbiamo già e spero che faccia una bella gara. Io cercherò di lottare per entrare sul quattro di coppia. Sto pensando sicuramente all'europeo a settembre in Romania e comunque a riuscire a ottenere qualche risultato anche nell'anno prossimo nella categoria superiore.